Il regista cinematografico Roman Polanski debutta nel mondo dei videoclip visualizzando una canzone di Vasco Rossi. Vincenzo Mollica ha incontrato a Cologno Monzese il regista e il cantante. Andiamo con lui. Chi l'avrebbe mai detto che un giorno si sarebbero incontrate artisticamente due vite spericolate come quella di Vasco Rossi e Roman Polanski per realizzare un videoclip della canzone Gli Angeli, una delle più belle del nuovo disco di Vasco. Le immagini che vedete si riferiscono alla lavorazione del video. Vasco Rossi è su una macchina progettata dallo stesso Polanski che farà navigare il cantautore nell'iperspazio degli effetti speciali. Complice di questo incontro davvero unico e straordinario Stefano Salvati, uno dei più bravi autori di videoclip italiani. Gli Angeli nella versione visiva di Polanski uscirà a settembre e sarà sicuramente un evento sia per il mondo del cinema che per quello della canzone. Come si comporta l'attore? Si comporta come una persona molto disciplinata. Ecco! Sì. Non si comporta come un cantatore, come una star di rock'n'roll. Lui non ti spiega cosa devi fare, capito? Cioè non ti dice devi fare così. Ti spiega cosa devi pensare, capito? Quando tu fai un certo gesto e allora il gesto ti viene, capito? Che lo fa navigare nello spazio? Lo fa diventare un angelo? Perché va bene con l'atmosfera della canzone. E' il primo videoclip che fa nella sua storia? Primo e possibile ultimo? Speriamo di no! Speriamo di no!